che piacere incontrare eva sulle onde funky ciao benvenuta ciao noi abbiamo appena ascoltato così racconto anche al nostro pubblico l'emozione voglio dire cosa stiamo vivendo cosa abbiamo vissuto abbiamo appena ascoltato la tua canzone quella che tu racconterai al festival di sanremo e devo dire che è davvero insomma la quota rock del quando per rock non intendo un genere ma un tipo d'anima certo grazie ti riconosci riconosco molto sì sono molto molto emozionata di partecipare al festival non vedo l'ora sono qua che aspetto con ansia mancano pochissimi giorni sarà non lo so sinceramente cosa aspettarmi ancora perché ovviamente è la prima prima volta speriamo non l'ultima e quindi sì aspettiamo con grande ansia questo giorno hai un passato di musica di aperture musicali per altri artisti comunque di un talent molto molto famoso a volte c'è chi col tuo curriculum ha già superato la fase nuove proposte sei felice di essere invece ancora nelle nuove proposte io sono molto felice di essere nelle nuove proposte sinceramente non non me la sentirei di partecipare al festival di sanremo come big perché non mi sento un big insomma non ancora almeno quindi sono molto felice sì di essere tra le nuove proposte sarà una bella sfida perché comunque siamo otto giovani e portiamo su quel palco otto generi veramente diversi cose diverse tra loro e quindi secondo me è positiva diciamo questa cosa perché ognuno ha il suo no quindi ognuno ha sicuramente il suo genere il tuo l'ho definito con forse un po con un po troppa semplicità no che in verità c'è anche del cantautorato c'è comunque una ricerca piuttosto evidente anche portare un brano cosa ti salverà di antonio di martino è una scelta importante perché lui ha una penna e una scrittura come dire forse non così mainstream esatto esatto infatti questo brano l'ho scelto proprio principalmente la cosa che mi ha colpito da subito è stato proprio il testo quindi la scrittura e me ne sono innamorata subito ancora prima di provinarlo l'avevo già scelto perché l'ho sentito subito mio diciamo e infatti devo dire che sono molto contenta di questa scelta perché mi rappresenta tanto perché il titolo poi è cosa ti salverà ma alla fine dici insomma cosa ci salverà cosa mi salverà è una domanda che ti fai spesso e hai anche una risposta diciamo che cosa ti salverà cosa mi salverà è un po una domanda un po ironica diciamo per dirci che alla fine non c'è nulla che può salvarci se non partiamo da noi stessi e dal nostro rapporto con la normalità con la quotidianità con i giorni qualunque quindi questa canzone parla proprio del bisogno di sentirci importanti per noi stessi a prescindere da chi siamo da chi vorremmo essere ecco eva hai già fatto le prove di questa canzone a sanremo io non so perché ascoltandola poco fa ho pensato a quelle grande opere in cui a volte è uno stile musicale rock si mischia con l'orchestra adesso esagero mi viene in mente il metallica è un iperbole ma questo per dire come è stato sentire la propria canzone suonata da quell'orchestra diciamo che soprattutto questo pezzo secondo me si presta molto ad essere arrangiato da un'orchestra quindi le due prove che ho fatto sono state da pelle d'oca perché cambia tutto ovviamente cioè gli strumenti ti entrano proprio nel cuore quindi cantare con una base o con un'orchestra devo dire che è completamente un'altra cosa c'è una bella differenza c'è una gran differenza tra gli artisti per i quali hai aperto i concerti con i quali insomma hai collaborato a vario titolo c'è anche Carmen Consoli a me viene naturale chiederti se lei è fonte di ispirazione assolutamente sì assolutamente sì io dico sempre Carmen Consoli per me è un po' come la Madonna quindi veramente è una figura è lì intoccabile il suo modo di scrivere veramente è unico ed è una gran donna cioè una grande artista è una grande donna ho avuto l'onore e il piacere appunto di aprire qualche suo concerto ed è stata un'esperienza che non dimenticherò mai e che mi ha fatto crescere tantissimo comunque è stata anche una bella sfida perché il pubblico di Carmen Consoli non è proprio così accondiscendente esatto non è proprio accondiscendente quindi sai mi aspettavo anche magari una risposta negativa perché comunque sì sono appena iniziato sono una cosa diversa da lei invece sono stata super felice perché mi hanno dato tanta soddisfazione ecco senti quindi sul palco ti vedi un po' come lei più musicista che interprete più cantautrice diciamo che quello è un po' il mio obiettivo non mi vedo ancora così perché ci vorrà moltissimo tempo prima di arrivare spero un giorno di riuscire ad arrivare un po' là dove è lei però insomma stiamo parlando di altezze grandissime quindi sì però sicuramente insomma Carmen Consoli secondo me in Italia è la cantautrice migliore che abbiamo a mio gusto ovviamente poi ognuno ascolta le cose che mi piacciono insomma senti quando arriverai a venerdì la serata finale delle nuove proposte perché ci arriverai cosa in che situazione potrei dire di aver vinto il tuo festival cioè come potrai essere contenta perché se lo sarai allora dico sempre non lo dico per dire ma veramente quello che penso per me vincere non è arrivare al primo posto vincere in quel senso vincere il premio vincere il festival vincere per me è essere contenta di quello che ho fatto quindi esibirmi e dire sì ho dato il massimo quindi quello a cui punto io è proprio dare il massimo poi a prescindere dal risultato insomma come va va però se ho dato il massimo anche se sono ultima so che ho fatto tutto quello che potevo fare quindi sarò contenta comunque il viaggio dopo Sanremo prima di salutarti come prosegue dopo il festival? dopo il festival sicuramente lavorerò all'album cosa che sto già facendo che uscirà appunto un po' in ritardo nel senso sì tanti mi dicono sai sarebbe meglio ovviamente andare a Sanremo con un album già pronto ho detto quanto verissimo io non ho un album già pronto sicuramente questo un po' mi penalizza però devo dire che è stata un po' una scelta proprio perché non voglio fare le cose di fretta quindi piuttosto di buttare fuori un album che non mi rappresenta fino in fondo preferisco aspettare un po' di più magari penalizzandomi anche però il mio primo album deve essere come dico io quindi aspetto buona fortuna e grazie grazie mille grazie